Siamo nella sede del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo a D'Ortona con il presidente Valentino Di Campli. Presidente, quale bilancio si può tracciare alla fine di un anno che tutti ormai definiscono Orribilis? Un anno sicuramente brutto in termini generali che però da un punto di vista di produzione e di vendita dei nostri vini d'Abruzzo è stato un anno altalenante. Un avvio incredibilmente positivo, più del 10% nei primi tre mesi, con poi una debacle fortissima nei mesi di aprile e maggio. E poi un secondo semestre molto positivo, più 4,5% il Montepulciano d'Abruzzo, più 3% l'intero settore dei vini d'Abruzzo. E con un totale a fine anno di più un per cento per il Montepulciano d'Abruzzo, che si conferma essere un vino incredibile, un vino dalla stabilità, dalla qualità, quindi riconosciuta, costante e addirittura in crescita. Perché poi, oltre al dato generale che abbiamo avuto con i dati ufficiali riguardo i contrassegni di Stato, che dal 2018 ormai ci danno una sensazione quotidiana nell'andamento dei nostri imbottigliamenti, abbiamo avuto riscontro che in Italia, in grande distribuzione, abbiamo avuto addirittura un incremento sia in volumi più 4% e in valore più 8% addirittura, come risultato maggiore di tutti i competitor del Montepulciano d'Abruzzo. Con un prezzo medio che quindi è cresciuto anche del 4%, in un anno orribilis, come ha detto lei. Quindi da un punto di vista, diciamo, anche di prospettiva, sicuramente questi dati ci confortano, perché il lavoro dei nostri agricoltori, delle nostre aziende, delle nostre cantine, sicuramente in prospettiva è positivo. Certamente l'anno chiuso non è stato lo stesso per tutti, perché, tra l'altro, le aziende che hanno una capacità di lavoro in grande distribuzione hanno ottenuto sicuramente risultati abbastanza positivi. Le aziende che invece purtroppo lavorano solo col canale ristorazione hanno invece riscontrato notevoli difficoltà. difficoltà che si spera nel 2021 potranno essere superati e che i dati che abbiamo appena detto sono sicuramente confortanti, non solo in Italia, tra l'altro. Il dato generale, dicevo, è positivo, leggermente positivo, e in Italia addirittura molto di più. Anche in Germania abbiamo, che è il principale mercato estero, un consolidamento del Montepulciano con un prezzo medio anche lì leggermente cresciuto, anche là del 4% circa. Quindi è importante continuare a lavorare come abbiamo fatto finora per fare in modo che questo valore in più addirittura che sia ottenuto sullo scaffale venga trasferito al produttore. E questo è oggi il compito maggiore che noi come Consorzio, ma tutti i dirigenti del settore, devono avere perché la produzione è sicuramente quella che ha avuto maggiore difficoltà e che ha maggiori potenzialità però. Nel 2020 sono venute a mancare grandi rassegne come il Vinitaly. Quali sono le attività che il Consorzio ha potuto effettuare? Allora, il 2020 chiaramente è stato un anno che da un punto di vista di promozione ha segnato un cambiamento forse epocale nelle attività. Non solo il Vinitaly ma tutte le attività in presenza, le attività di promozione in presenza sono state annullate. Anzi, quasi tutto perché siamo riusciti nel periodo di settembre anche a fare qualcosa in Danimarca, in Polonia, insomma in Nord Europa dove avevamo programmato delle iniziative di promozione. Però in generale chiaramente la situazione è cambiata ed è cambiata, diciamo ci siamo dovuti adeguare e abbiamo continuato in modo intenso a fare attività di promozione attraverso i canali social, attraverso organizzazione di incontri B2B favorendo anche incontri con operatori, giornalisti, insomma tutti quelli che in qualche modo ci consentono di collocare il nostro prodotto sui mercati internazionali in particolare via telematica con gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione. Questo ci ha consentito sicuramente anche di tamponare un po' tutta la situazione negativa e ci consente anche di guardare al futuro con un approccio positivo perché comunque le attività che abbiamo svolto abbiamo riscontrato essere tutto sommato anche positive. Sicuramente la carenza di vicinanza, di possibilità di far degustare il vino, di avere la relazione diretta e stretta con gli operatori non è sostituibile. Quindi auspichiamo prima possibile che si possa tornare a viaggiare, si possa tornare alle manifestazioni fieristiche seppur in modo differente perché sicuramente ci saranno dei cambiamenti in futuro ma è importante poter avere questo tipo di rapporto e soprattutto è ancora più importante portare gli operatori sul nostro territorio, far conoscere il nostro territorio, fare le attività qui in presenza perché questo è per noi un valore aggiunto incredibile perché tutti gli operatori o chi è interessato al vino immagina la Toscana, immagina il Piemonte ma non immagina l'Abruzzo. Deve venire qui per poter toccare con mano quello che è un territorio incredibile che dà prodotti assolutamente di grande qualità. In un territorio dove i vigneti vanno dalla montagna fino quasi al mare parliamo del consorzio, del suo valore quando si dice che l'Unione fa la forza è proprio così? Sì, il consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo come dice proprio la denominazione, la ragione sociale ha innanzitutto il compito di tutelare tutti i vini d'Abruzzo ed è una particolarità quella nostra quella di avere un consorzio di tutela di natura regionale è un consorzio fatto da produttori di uve, oltre 6.000 e produttori e cantine, oltre 200. È un consorzio volontario, un'associazione volontaria che però è riuscita negli anni ad arrivare a una rappresentatività di oltre l'85% della produzione regionale questa rappresentatività ci ha consentito di avere riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole quale soggetto con funzioni pubbliche per cui oggi, seppur un'associazione volontaria svolgiamo compiti di natura pubblica a partire dai discorsi relativi alla tutela per arrivare poi anche alle attività di promozione e da questo punto di vista l'Unione fa decisamente la forza perché sia per le attività di tutela noi siamo riusciti a contrastare chi voleva cancellare la denominazione Montepulciano d'Abruzzo oggi, nel 2018, abbiamo vinto una causa fondamentale per il nostro futuro nessuno potrà più mettere in discussione il vino Montepulciano d'Abruzzo questo ci consente di andare poi anche a chiedere la tutela con la registrazione dei marchi sia come nomi di vini ma anche come marchio di consorzio in tutti i paesi del mondo costa tanto lo possiamo fare, possiamo tutelarci solo se abbiamo chiaramente dietro le spalle un'associazione importante abbiamo ottenuto quest'anno per esempio la tutela tra i 100 marchi comunitari di riconoscimento reciproco con la Cina noi siamo rientrati tra gli unici primi 100 marchi che la Cina ha riconosciuto come Montepulciano d'Abruzzo in Cina che provengono dalla comunità europea quindi questa forza l'abbiamo proprio perché siamo un consorzio regionale e abbiamo dietro un gruppo di produttori importante siamo riusciti a portare avanti attività di promozione che altrimenti non avremmo avuto assolutamente la possibilità di farlo perché oltre che con i fondi regionali attraverso il PSR, attraverso gli ECM oggi facciamo promozione a livello internazionale attingendo addirittura a fondi direttamente comunitari che ci porteranno nei prossimi anni a gestire budget di promozione di 7-8 milioni di euro all'anno che è importante perché noi da soli possiamo fare tanto le aziende, le cantine con i propri brand possono fare tanto ma i brand collettivi come Montepulciano d'Abruzzo come il Cerasuolo possono svilupparsi solo se c'è dietro un consorzio di tutela che mette su tutte le attività che da un punto di vista promozionale da un punto di vista di tutela da un punto di vista di gestione anche delle produzioni un nuovo argomento che da poco stiamo sviluppando ma che è fondamentale per la valorizzazione dei prodotti del nostro territorio quindi il consorzio ha e avrà sempre più un ruolo fondamentale per la crescita e la valorizzazione dei nostri prodotti E riferendoci sempre all'antico detto l'unione fa la forza parliamo dell'importanza della cooperazione ci sono molte aziende piccolissime, familiari qual è l'importanza proprio di unirsi? Grazie alla cooperazione piccole realtà da un ettaro, due ettari di vigneto riescono poi insieme a organizzarsi in modo tale da poter poi accedere ai mercati nazionali internazionali che sarebbero assolutamente preclusi abbiamo tra l'altro una cooperazione di grandissima qualità che però ha bisogno di ulteriormente evolvere sia in termini di immagine e sia in termini di organizzazione perché oggi il mondo è il mondo da un lato è piccolo dall'altro è grande i mercati sono tutti difficili la competitività è fortissima bisogna essere organizzati bisogna avere prodotti di grandissima qualità e riconosciuti e su questo gli strumenti di cui parlavo anche prima saranno sicuramente molto utili in futuro abbiamo introdotto tra l'altro nel 2018 il contrassegno di Stato che ci consente di avere una credibilità come produzioni per il Montepulciano d'Abruzzo per il Treppiano per il Cerasuolo e non solo decisamente superiore nella tracciabilità che viene richiesta ai prodotti agricoli e l'immagine del nostro sistema vitivinicolo è decisamente cresciuta Presidente a conclusione parliamo un po' di obiettivi futuri Nel 2021 sicuramente dobbiamo intensificare l'attività di formazione in Cina e nei paesi asiatici fare una grande attività di promozione come abbiamo già ottenuto il finanziamento nei paesi nordamericani intensificare il rapporto con la ristorazione con attività mirate e creare le condizioni per un maggiore sviluppo dell'enoturismo in Abruzzo L'enoturismo è un campo importantissimo il Consorzio vuole avere un ruolo centrale perché insieme possiamo costruire un sistema che ci consentirà di aumentare la percezione e il valore del nostro territorio e quindi dei nostri vini e poi vogliamo favorire sempre di più la consapevolezza nei giovani del ruolo del nostro Consorzio coinvolgendo le nuove generazioni che già sono dedicate al vino facendo attività di formazione di quelle che è oggi l'attività principale del Consorzio ma anche acquisendo idee dai giovani perché in un mondo che sta cambiando velocemente loro sicuramente sono e saranno sempre più protagonisti in un nuovo video in un nuovo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti